Pascal non si limita a registrare questa molteplicità e quindi non assume la posizione, diciamo così, neutra dell'antropologo che si limita appunto, come in fondo aveva fatto anche lo stesso Erodoto, appunto, riconoscere e registrare questa molteplicità. No, per lui questa cosa pone un problema e questo lo troviamo in un altro gruppo di pensieri, di nuovo molto famosi, che sono quelli in cui si parla della nave, le vessù, il vascello, ne leggo soltanto uno ma il riferimento torna più volte ed è il 383 in cui lui dice Quelli che vivono disordinatamente dicono a coloro che vivono ordinatamente che sono loro ad allontanarsi dalla natura, mentre essi credono di seguirla e sono simili a coloro che stando su una nave, no, su questo vascello, credono che coloro che stanno fuori fuggano. Simile linguaggio si usa per tutte le cose, bisogna avere un punto fisso per giudicare, il porto giudica quelli che stanno sulla nave, ma dove prendiamo un porto nella morale? Ecco, questo è il punto fondamentale, no, poco prima aveva detto che quando si guarda un quadro bisogna trovare il punto giusto da cui osservarlo, che è indicato dalla prospettiva e aveva concluso Ma nella verità e nella morale, chi determinerà questo punto giusto da cui osservare le cose? Dove trovare il porto da cui giudicare il movimento delle navi immorale? Cioè laddove ne va del giusto e dell'ingiusto Ora, prima di provare a indicare la risposta che Pascal dà a questa domanda, è davvero importante a mio parere riconoscerne la drammaticità che lui aveva in mente e che spesso non è in mente, non è presente, non è concretamente presente, almeno stando al modo in cui è formulata, da parte di chi la trasforma in un puzzle morale No, Pascal aveva una consapevolezza drammatica di questa necessità di trovare un punto fisso perché i punti attualmente in quel momento si trovavano in movimento La sua risposta è nella morale cristiana e nella fede cristiana